11 per ciò Ma che è l'oreo? No, ma io ti dico Ma loro sono 9 per ciò Ma loro sono 10 Ma loro sono 9 per ciò Ma loro sono 9 per ciò Ma io mi manca un Ma lei Ma dai che gli anni Ma dai che gli anni Non sono 9 per ciò Ma non lo deve stare Ma non lo è se sono 9 Il problema è che esce. Questi fanno come l'Inter, anche se sono in dieci. Grazie. Grazie. Grazie.